Musica ... ... ... ... ... Questa è la gruppo lezione dell'attiva 1-9, meno 9, dimenticato Montano Perez, un troppo 8, però vicini Montano Perez, su quella striglia E riporta a meno 9, Bologna Adesso è la, per il prossimo Corrella, sto parlando Il titolo, troppo di per Montano 42, stoia Vado a fare il botano da Pelluzzi La mente A partire dalle segni di scelta Forse, un po' fissata Tanto la trizza Ancora pensiamo come è iniziato a tutti Montano Perez Grazie a tutti